Per la settimana della mobilità sostenibile, nelle Marche una serie di iniziative con dei viaggi in treno, che cosa ha fatto la Regione per agevolare il supporto e la promozione del trasporto su treno e su altri mezzi ecosostenibili? Guardi, intanto abbiamo fatto una poderosa campagna di informazione sfruttando la settimana europea per far capire l'importanza di cambiare stile di vita e quindi una mobilità sostenibile che privilegi il treno e altre forme e quindi questa è una serie di iniziative che stiamo portando avanti, oggi iniziano per una settimana. Quello che ha fatto la Regione è importante sul versante del ferro perché abbiamo, come vedete, ci troviamo a bordo di un treno nuovissimo e stiamo cambiando tutti i treni che circolano lungo le tratte marchigiane, treni più moderni, più rispettosi dell'ambiente, meno inquinanti. Stiamo realizzando, e adesso nei prossimi minuti lo vedremo, tutta una serie di iniziative che porteranno all'elettrificazione completa del tratto genitanova al pagina, che è una roba storica e il più grande investimento da quadrilatero che nelle marche si fa per la mobilità. È una roba molto importante che come maceratesi chiedevamo da decenni, un fatto importantissimo storico. Abbiamo, siccome poi siamo stati accosati molto negli anni scorsi, nei mesi scorsi, per aver puntato sulle ciclovie, pensiamo che ci sia un discorso molto importante, nel quale noi crediamo molto, che è quello di incentivare le ciclovie collegando la costa con l'entroterra, dando la possibilità attraverso delle vie organizzate e strutturate di visitare i nostri territori bellissimi, un ambiente incontaminato dell'entroterra che tutto il mondo ci vive. Ci abbiamo investito molto e vogliamo essere una delle regioni che su questo progetto di ciclovie sarà capofila. Non a caso tutto l'investimento della ciclovie adriatica che parte da Trieste, arriva a Lecce, ci vede come protagonisti perché la regione Marche sarà la regione che coordina tutti i lavori e tutti gli investimenti.